Alla vigilia di una importante riunione in prefettura sulla questione Galleria Passo del Lupo, una galleria che collega la Puglia al Molise, una strada molto transitata, la SS17 dell'Appennino Abruzzese a Pulosannita. Sindaco, che cosa chiederete al prefetto? Noi chiediamo che il cronoprogramma per le chiusure venga condiviso per far sì che ci siano le minori criticità possibili. Sappiamo tutti che ci sono dei lavori da fare e sono necessari e nessuno dei 36 sindaci firmatari, ma siamo 36 ma a nome di tutti i sindaci del Molise, della Campagna e della Puglia che si affacciano sulla stradale 17, chiediamo ad ANAS e al Ministero dei Trasporti in questa riunione e con la nota che abbiamo inviato che vengano fatti i lavori il più velocemente possibile e che venga condiviso il cronoprogramma di chiusura per una criticità minore. Chiudere la galleria nel periodo della trebbiatura e nel periodo dell'arrivo dei turisti significa tagliare fuori una parte d'Italia. Quindi un cronoprogramma che rispetti le esigenze del territorio? Proprio questo e sono sicuro che un dialogo costruttivo tra amministrazioni, un dialogo costruttivo tra enti possa portare ad una criticità sicuramente inferiore rispetto a quella che si può valutare con freddi calcoli dietro una scrivania.